Il 2022 continua ad essere un anno accompagnato da emergenze e stranezze. Dopo la siccità e tante altre problematiche, quest'anno, nei suoi ultimi mesi, sta proseguendo con l'anomalia climatica. Temperature ben oltre la soglia del periodo stanno portando un caldo anomalo. Dopo una brevissima perturbazione avvenuta nelle ultime ore, il sole è tornato a splendere. Il caldo fuori stagione durerà sicuramente fino ai primi giorni di novembre ed è provocato da una nuova poderosa risalita dell'anticiclone africano sul vecchio continente. Torneranno localmente le nebbie sulle pianure del nord, ma in un contesto di cielo poco nuvoloso e clima caldo per il periodo. Il sito ilmeteo.it descrive la situazione così. Una fiammata africana veramente anomala e straordinaria per il periodo. Il nuovo anticiclone di Halloween e ogni Santi ci traghetterà verso il nuovo mese, persistendo almeno fino al 4-5 novembre, prendendo il nome di Novembrata.